Per far conoscere che Anna Lindale è una collega che lavora a stretto contatto con Eva, che conosce sicuramente molto bene anche Peter, questa è una comunità di stranieri che continuamente si incontrano a vari tavoli e soprattutto è una musicista, cioè la sua carriera è come quella di Eva, queste persone sono veramente degli artisti in carriera che anche si sono dedicati ampiamente di accompagnare questo processo, comunque ve la faccio vedere, lei è l'ex presidente, allora il caso break era previsto per le quattro, possiamo anticiparlo adesso che c'è uno sprazzo di sole? Esatto, è il lavoro proprio al bode di questo, in più è ex presidente della Society of Artistic Research in scadenza, va bene, comunque molto velocemente poi ve la faccio vedere, poi invece presenterò ognuno di voi invitato alla tavola rotonda e procederemo con una discussione che aprirà già subito alla transdisciplinarietà, perché questo era il motivo per cui siete stati invitati da esperienze e afferenze così diverse, grazie, andiamo a bere il caffè?